Il gruppo è la rappresentanza della Vistus Pestrentano che scriva che il centro storico è correllato là. Sì, avanti eh. Devi essere un paio di metri più avanti del gruppo. Non posso. Tenetelo più sollevato. Ecco, ci troviamo al centro storico dell'Aquila, ancora ferita dal terremoto del 2009. Oggi queste vie abbandonate rivivono i giorni lieti e di gloria con le grida di questi ragazzi.